C'è chi il Natale lo festeggia all'insegna dell'abbondanza e chi invece è costretto a festeggiarlo in sordina. Ma nelle pieghe della società, dove la povertà e l'indigenza affievoliscono luci e colori del Natale, la solidarietà tende la mano, regalando aiuti e sostegno a chi non ha la possibilità di concedersi lusso ed eccessi. E' in quest'ottica che opera l'emporio della solidarietà a Papa Francesco di via Rubicone XV nel cuore del quartiere San Donato a Pescara, dove il comune ha presentato un nuovo servizio in favore delle famiglie in difficoltà seguite dai servizi sociali, come spiega il vice sindaco e assessore comunale alle politiche sociali Adelchi Sulpizio. Oggi con l'emporio della solidarietà raggiungiamo un duplice obiettivo, da una parte etico, perché tutti i prodotti che stanno per scadere verranno anche riutilizzati, non verranno buttati e quindi verranno dati alle persone che sono anche in difficoltà. E poi per l'appunto sociale, perché andiamo a dare una risposta a quei tanti cittadini pescaresi che aumentano costantemente purtroppo, che hanno bisogno di un aiuto concreto. Noi gli daremo una card, che potranno come un normalissimo supermercato venire qui e prendere tutti i beni di cui hanno bisogno. Una cosa anche diversa rispetto al passato, che non ci saranno soltanto prodotti a lunga conservazione, ma qui avremo anche per la prima volta anche dei freschi alimentari, così come anche altri prodotti, quali quaderni, dei libri, anche materiali per la casa. È una risposta concreta che vuole anche salvaguardare la dignità delle persone, perché non diamo il classico pacco così come si faceva. Chi ha bisogno viene qua e potrà nella totale autonomia scegliere quello di cui ha bisogno. Quali sono e quanti sono i cittadini che usufruiscono di questo servizio? Sono oltre 126 nuclei familiari, è un percorso che va da tre a sei mesi. Quest'anno per Natale abbiamo anche implementato, infatti abbiamo fatto anche un extra dono proprio per dare la massima solidarietà a queste persone in difficoltà. Purtroppo è un numero che tende anche a crescere, ma da qui anche l'impegno che mettiamo come comune, come amministrazione, al fine di aumentare anche le risorse, perché a Pescara nessuno viene lasciato mai da solo. Le misure di sostegno alimentare e lotta allo spreco dell'emporio di via Rubicone rientrano nel più ampio programma di supporto ai cittadini indigenti, come sottolinea il sindaco di Pescara, Carlo Masci, in corsa per il secondo mandato. Da noi la parola sussidiarietà non è soltanto una parola ma è fatta di donne e uomini che si impegnano affinché chiunque abbia bisogno trovi una risposta. In questo periodo stiamo investendo non soltanto con i buoni spesa che abbiamo assegnato ai cittadini che avevano un reddito di 6 fino a 9.000 euro, ma anche a coloro che hanno la possibilità di ottenere questa card con un reddito di 6 ancora più basso a 6.000 euro per fare acquisti in un emporio come se stessero in un supermercato. Caritas, Banco Alimentare e Spazi di Prossimità cooperano con l'assessorato alle politiche sociali del comune di Pescara per rendere operativo e funzionale l'emporio della solidarietà che in via Rubicone garantisce la presenza di un banco dei freschi al quale si aggiunge anche il nuovo servizio di distribuzione dei buoni da 30 euro per l'acquisto di prodotti freschi in una macelleria convenzionata. Antonio Dentino, presidente della Onlus Spazi di Prossimità e responsabile dell'emporio, al Tg8 aggiunge ulteriori dettagli. Normalmente per avere un'idea una famiglia media di 4 persone ha una card di circa 400 punti. consente di poter effettivamente per un mese avere l'opportunità di aver fatto la spesa.